Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta piselli e stracchino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, sale, pepe, piselli, pasta corta, burro, latte, stracchino, olio e scalogno. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno e lo facciamo dritare per 3 secondi a velocità 5. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. Facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi, velocità 3. Aggiungere i piselli e li facciamo cuocere per 5 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungere l'acqua, il pepe, il sale e cuocere per 20 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Nel frattempo cuocere la pasta. I piselli sono cotti, metterli da parte. Senza lavare il boccale, mettere il latte e il burro. ed azionare il bimbi per 30 secondi, 37 gradi, velocità 1. Aggiungere lo stracchino e una parte dei piselli. Ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Versare la crema ottenuta sulla pasta assieme al resto dei pisellini e servire. Pasta, piselli e stracchino. Grazie e alla prossima ricetta! Questa è questa! Bene provide Grazie a tutti.